Allora, questo è l'ufficio che ha allestito questo camioncino della protezione civile. Qui siete operativi sostanzialmente da ieri pomeriggio. Michele Cesconetto è uno dei volontari. Quanti sacchetti avete distribuito? Man mano è venuta la gente a prendere sacchi di sabbia. Sì, abbiamo messo a disposizione diverse centinaia di sacchi. La popolazione se ne è servita per le parti più critiche. C'erano solo ancora a disposizione, quindi se dovesse servire sono a disposizione della popolazione. Tutto pronto in attesa della piana del fiume Bacchiglione, alla Paltana, la zona di Padova dove il corso d'acqua da sempre fa paura. L'ultimo aggiornamento della riunione d'emergenza in prefettura diffonde dati rassicuranti, ma la paura resta. Vediamo, speriamo che non succeda niente, speriamo che non succeda quello che è successo otto anni fa ormai. Quello sarebbe preoccupante perché l'altra volta doveva salire di un metro e mezzo, a me mi ha preso tutto il primo piano. Ci ho messo due anni a tornare in casa dopo. L'ora X, le 22, tarda serata di questo martedì che potrebbe segnare la fine dell'emergenza a Padova. Ma le previsioni per il fine settimana non sono buone e chi vive in questo quartiere, quando il Bacchiglione cresce, vive sempre con l'angoscia. Non voglio l'acqua perché pago le tasse e non voglio l'acqua e devo essere tutelata.